Ciao, oggi vi mostro cosa uso io come trattamento urto per la caduta dei capelli o quando si indeboliscono con il cambio di stagione eccetera eccetera ve lo faccio vedere che facciamo prima sono queste fiale della Keramide H queste sono quelle per capelli secchi, formula potenziata con amminoacidi trattamento intensivo, fiale a base di keratina e amminoacidi per capelli deboli, sottili, facile spezzarsi allora queste fiale sono 10 fiale monodose per 10 ml l'una ok, vi faccio vedere il video dove le applico così facciamo prima e poi dopo ne parliamo assieme ciao 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 allora intanto io queste fiale le utilizzo nei cambi di stagione soprattutto in primavera e in autunno perché vedo che i capelli tendono a cadere di più sono 10 fiale come ho detto e me la confezione dura un anno intero perché faccio una stagione 5 fiale e l'altra stagione le altre 5 fiale e le faccio una volta a settimana e trovo che sia sufficiente la cosa importante come tutti i prodotti non è tanto il prodotto in sé sì, questo sicuramente aiuta però è il massaggio che deve essere molto intenso e prolungato bello devi proprio andare a massaggiare bene il cuoio capelluto una cosa lunga con calma prendersi il suo tempo in questo caso penetra molto meglio lo utilizzo sui capelli appena lavati prima di asciugarlo il profumo è un po' intenso ma comunque si attende ad andare via quando l'ho asciugato non mi dà problemi durante la piega e io trovo che è davvero già dopo le prime applicazioni si nota che i capelli sono davvero molto meno quelli che rimangono nella spazzola quindi sicuro ho provato varie formulazioni questa è quella bianca la linea bianca che dice per capelli deboli, sottili ho provato altre linee credo che sia la bianca stavo leggendo perché magari dico una cavolata non c'è ovviamente scritto e quindi ci arrangiamo comunque quella per capelli secchi ecco perché ne ho provate altre che dicevano che erano per tutti i tipi di capelli ma ho trovato che facessero meno forse i miei capelli hanno davvero bisogno soprattutto dato che ne faccio 5 e non tutta la scatola hanno davvero bisogno di un trattamento in più comunque io mi trovo bene credo che siano valide e volevo consigliarvele perché comunque sia non costano tantissimo rispetto ad altri prodotti e con un trattamento a urto che comunque 5 fiale facciamo che sono 2 mesi davvero io mi trovo bene e noto i risultati soprattutto mi raccomando l'importante è il massaggio massaggiate bene allungo profondamente muovete bene lo scalpo si deve muovere un po' come vi ho fatto a vedere nel video quindi proprio una cosa prolungata e niente io spero che sia stato utile e fatemi sapere se l'avete provato se lo proverete se avete provato altri prodotti di questa linea e fatemi sapere come si trovate io vi do appuntamento alla prossima accensione beauty e se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e mettimi un like così non perdi le prossime accensioni alla prossima ciao